Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi giocheremo su Call of Duty Warzone di nuovo come l'altra volta ma stavolta con Rockin2 che ce lo ritroviamo oltre a Minecraft, Fortnite e tutti gli altri giochi pure su Call of Duty Warzone Siamo noi due contro tutti quanti coppie da tre praticamente quindi ci dobbiamo fare un po' di pro eh cioè proprio perderemo io appena installato sto gioco non so neanche come si cammina quindi perfetto Allora si cammina con la levetta sinistra Si chiama modo giro E modifichiamoci il loot raga Modificiamoci Modificiamoci ragazzi Sì vai modificiamo tutto vai modificiamo tutto E allora ci abbiamo la cappa questo Questo è carino Abbiamo questi cecchini Non ce li facciamo mancare Questo è il mio preferito raga Ah ma io mi metto questo qua come preferito raga Qua sta come preferito Perfetto Ora ho come prima il cecchino Come seconda Come seconda Il pin Che tipo Il coso Come seconda abbiamo il coso Poi qua ci sta Quella con la glocca automatica Sì ci sono Uno Non si capisce Pippa come te Che detto Alicato 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 Oh mia mia che pro raga Mi sento un pro game Vediamo che possiamo killare Perfetto quello che cade giù Mi ha Mi ha schiamato Mentre fungivo A tutte le unità Far lasciato un zero uno Di spiegamento autorizzato Perché prima non sono morto Veramente Di spiegamento autorizzato Ehm Non vai Eh Ok siamo io Ah no ci sta anche un altro Eh Ma è lo stesso di prima O no Cambia solo la skin forse Dagli raga Ricominciamo tutto Che cos'è su questo coso È l'aereo Guarda ci sono gli aerei Militari che si schiantano Dove ti butti? Ehm Va Va sopra Va al prison Va qua sotto Va sul tetto di questa struttura Dove sono io Fatene buono Mi vedi? Ora killiamo Non ti permetti a uccidere il mio amico Nooo Sì ma poi ci sono dei pro Forse facciamo meglio Ad uscire dal tetto della struttura Ok io mi sono rianimato Andiamo Oh No vabbè Dai non è possibile Andiamo qua Andiamo qua Un attimo che devo saltare Ti prego Non devi morire Nicola Se sono abbiamo già perso La cosa che tu lo sta chiedendo a me Che ho appena installato Già Eh sì Sei di nuovo in azione Dacci retta Vai ripartiamo Non sono mai morta così spesso Io però Di fare In sette Sei vivo Spero Sì sì io sono vivi Sì ma più Non è perso Scherzo Sì 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 Lo toppero Sì Compagno tornato in campo Ben fatto non è possibile voglio morire aspetta che sto scecchionando no vabbè mi devo arrendere subito se no dura troppo tempo salto è ripartito è ripartito tranquillo ok perfetto vediamo dove possiamo atterrare ma raga ma io atterrerei mi atterrerete vederete tei oh no tu devi evitarmi ma invece io ti aiuto dall'alto c'è chi non ti aiuto c'è uno da me o il piangere stessa cosa oh questa è una bella posizione sicura ah ma il mio bro è un tiglio arrivo nell'area io ti sto aiutando dall'alto e anche se te è ormai si dentro ti sto uccidendo le persone sul tetto della struttura dove siete ce ne sono un botto vediamo cosa possiamo fare oh ci sono le casse di lui grazie ragazzino oh ogni tanto ho sentito dei nemici oh oh questa miseria questo sta bestemmiando oh attenzione qua qui stanno sparando no no sta bestemmiando davvero ma l'hai sentito te veramente arrivo c'è una nuova zona sicura è l'ora della vendetta stai tornando no io ti voglio ti chiedi da qui no no grazie a tutti